Ok vado, allora si conclude un anno pazzesco, pazzesco dal punto di vista, tutti i punti di vista, è stato un anno intenso e devo dire la verità sono un po' triste perché quando finiscono questi anni qua è un po' come il giorno di Natale, l'attesa è stata bellissima, lavorare con queste ragazze è stato un onore, il mio staff è stato perfetto e quando finisce c'è un po' di tristezza diciamo, è vero abbiamo raggiunto l'obiettivo però c'è anche un po' di malinconia perché è finito un anno uno dei più belli della mia vita devo essere sincero.